Queste 100 cose ho intenzione di farle tutte e portarle sul canale quindi iscriviti perché vi porterò tutte e le 100 cose da fare prima dei 30 anni Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Finalmente siamo arrivati con il video che tantissimi stavano aspettando 100 cose da fare prima dei 30 anni Vi invito a mettere un pollice all'inno su per sostenere questa serie di video perché probabilmente durerà anni E soprattutto vorrei che anche voi faceste la vostra lista delle 100 cose da fare Prima dei 30 anni, prima dei 40 anni, prima di morire, prima di quello che volete Scrivetemi nei commenti se lo farete e soprattutto scrivetemi qual è l'obiettivo che assolutamente volete raggiungere almeno una volta nella vita A questo punto vi lascio al video, buona visione Guardare una totale eclissi di sole o di luna Andare a vedere le balene Pianta un albero o due Compone una canzone Percorrere il cammino di Santiago Tenere un discorso in pubblico Impara a suonare uno strumento Partecipa a una protesta organizzata Guida senza una destinazione Fare un viaggio su strada con gli amici Festeggia per tre giorni consecutivi Guardare e ruttare un vulcano Vai a un appuntamento con uno sconosciuto Fai festa per tutta la notte e poi vai a lavorare Passare una notte in una casa sull'albero Vai in un bungalow sull'acqua Vai a vedere un film in un drive-in Visita ogni capitale d'Europa Organizzare un mega party Passa un capodanno a New York Andare all'aeroporto e prendere un volo a caso Siediti, leggi un libro e non alzarti finché non l'hai finito Con al sangue Specializzati nel preparare un cocktail Guidare una macchina veramente fica Lascia una mancia veramente sostanziosa Passa un'intera giornata mangiando cibo spazzatura Cavalca qualcosa di più grande di un cavallo Adotta un bambino a distanza Buttati in piscina completamente vestito Viaggiare in elicottero Viaggia in Europa con lo zaino in spalla Visita tutti e sette i continenti Fai il bagno nudo Ballare a piedi nudi sotto la pioggia Fai surf in Australia Stai ai tuoi genitori a fare la vacanza dei loro sogni Stacca la spina per 48 ore Trova un lavoro che ami Andare a vedere l'aurora boreale Recorri la Route 66 in America Impara a preparare un piatto E diventa famoso tra i tuoi amici per quella pietanza Bacia uno sconosciuto Passare il Natale sulla spiaggia a bere pina coladas Premi il pulsante don't press Fai couch surfing Questa in realtà l'ho aggiunta io e solo mia Tenere un concerto mio Trova un posto che sia il tuo posto speciale Risolvi un conflitto che hai avuto in passato Andare in un African Safari Fai l'artista di strada e manteniti così durante quel viaggio Fare una foto al giorno per un anno e crearne un video alla fine Vai in campeggio Corri una maratona Sconfiggi una tua grande paura Partecipare ad almeno un grande evento sportivo Prendi al volo un'occasione Vestiti elegante senza che ci sia un'occasione particolare Dormi sotto le stelle Vivi all'estero come se fossi un cittadino di quel luogo Prendi un aereo in business class Metti le mentos in una coca cola Partecipare a un grande festival della musica Guarda tutti i film di Star Wars in una giornata Accendi un fuoco senza cerini Pratica la meditazione Nuota con i delfini Imparare una lingua straniera O anche due Guida una moto Sii il mentore di qualcuno Fai paracadotismo Fai una reunion con i tuoi vecchi compagni di scuola Bevi da solo in un pub Realizza un album di inediti Per quanto mi riguarda ovviamente Voi fate come volete Andare sulla slitta Trainata dai cani Parte della audience di uno show televisivo TBC a tutto per 24 ore Ottieni il tuo peso ideale Smetti di fare quella cosa che pensi di non poter smettere di fare Sali sul grattacielo più alto del mondo Parla dopo aver aspirato l'elio Scrivi una lettera a 5 persone che ti hanno influenzato Andare in mongolfiera Fai una sorpresa di cuore a qualcuno Mangia in uno dei migliori ristoranti del mondo Fai un'enorme scommessa alla roulette Incontra qualcuno di famoso Fai la carità in modo anonimo Laurearsi Fai volontariato Vai in una spiaggia di nudisti e stai nudo con loro Scriviti una lettera e rileggila tra dieci anni Vedi il sole a mezzanotte Mandare un messaggio nella bottiglia Batti il 5 a uno sconosciuto Scrivi un libro Passa una notte in un iglu Lanciati in acqua da una scogliera Fare tutte le 100 cose da fare Prima dei 30 anni Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se è così lasciate un bellissimo pollice all'ina in su Vi lascio qua di fianco un video consigliato Potete iscrivervi in basso a destra E qua sotto vi lascio i top comments Quindi commentate perché potreste finire nei prossimi top comments E niente Ci vediamo presto in un prossimo video Ciao Ciao